Io tenterò soltanto di tirar fuori la vostra presenza, cercando di capire cos'è che in fondo ha un cantante che ha talento, che lo senti che ha una bella voce e che riesce a comporre un po' di musica, anche delle parole, cantautori in questo caso me ne sto occupando. Cos'è che fa sì che loro sboccino il grande pubblico, il come presentarsi, ma non semplicemente fisicamente, il look, quello conta, fa parte del monaco ma non è il monaco, è lo spirito con cui voi esistete davanti al grande pubblico. Quando tutto diventa una sola cosa, quando trovate il modo di prendere il pubblico senza aver detto una parola, solo entrando, guardandolo, essendo.